Il GUP del Tribunale di Chieti Luca Deninis ha disposto il rinvio a giudizio per due medici endoscopisti dell'ospedale di Ortona accusati di omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Il giudice per le udienze preliminari ha anche ammesso la costituzione di parte civile dei familiari. La vicenda riguarda la morte di una donna di 48 anni deceduta nel settembre del 2018 nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Lanciano dopo essere stata sottoposta ad un intervento endoscopico. Durante le indagini preliminari il PM della procura teatina Giuseppe Falasca aveva avanzato la richiesta di archiviazione per i due medici respinta dal GIP di Berardino a seguito dell'opposizione dei legali della famiglia gli avvocati Cristiana Valentini, Massimo Romano e Luca Di Carlo. Il GIP dopo aver accolto la tesi difensiva che riteneva l'intervento endoscopico controindicato rispetto all'operazione chirurgica ha formulato l'imputazione coatta degli indagati evidenziando la sciatta negligenza nel sottoporre la paziente ad un intervento totalmente sconsigliato. Il processo prenderà il via il 7 marzo 2022 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Chieti.